L'accordo con la società c'è. Francesco Burgalassi vestirà i colori del basketball club Lucca anche per la stagione 2022-2023. Un matrimonio che si rinnova con la benedizione dell'allenatore Naline e della società che vanno con Burgalassi a confermare buona parte del blocco squadra che lo scorso anno conquistò la salvezza all'ultima di campionato contro Don Bosco. Un'importante scelta anche per Burgalassi che dopo l'esperienza alla PL Livorno per il secondo anno consecutivo ha accettato di indossare la numero 18 del basketball club Lucca. Nella scorsa stagione la sua presenza è sempre stata importante anche se è stato costretto a lungo stop per un'infortunia non a mano. La società dopo l'accordo raggiunto che vede Burgalassi vestire per il campionato 2022-2023 la maglia di Lucca gli esprime la più ampia soddisfazione e gli fa un in bocca al lupo certa che il suo apporto in campo sarà improntato a ottenere sempre il migliore risultato.